Ma chi l'aveva coniata questa? Io o te? Eh, questa è la roba tua. Tua mia? Bella, mi piace, mi piace. Parte dal concetto che in realtà non possiamo fare un adattamento se non c'è un po' di stress. Questo ormai lo sapete tutti, l'allenamento è stress. E questo stress è, per quanto ci riguarda, un veleno. Bene, consideriamo lo stimolo allenante come se fosse il veleno. Voi ben sapete che non è il veleno il problema, è la dose del veleno. Non è il veleno il problema, ma è la dose. Ci sono alcune persone che, a forza di iniettarsi il veleno del serpente, poi diventano assolutamente in grado di farsi mordere da un serpente velenoso perché il loro organismo si è già abituato. Se pensiamo ai rimedi che utilizziamo, attenzione che quando parlo di rimedi faccio riferimento al termine che si utilizza in omeopatia. È un rimedio, quindi qualcosa che stimola l'autoguarigione, che è diverso dal concetto di medicinale o farmaco. Il farmaco tende a lenire un dolore, quindi andare fondamentalmente su quale parte? Non sulla cura, ma sul sintomo. Invece il rimedio agisce sulla causa. È più lungo, piccole dosi fanno sì che l'organismo si stimoli, si autostimoli. Arriviamo poi a quello che noi tutti conosciamo, è il vaccino. Un vaccino non è che una micronessima parte di un patogeno che fa sì che il sistema immunitario si stimoli, si prepari. Notate l'analogia che c'è in questo con l'allenamento? Noi possiamo prendere qualsiasi stimolo allenante come se fosse un veleno, perché lo è per l'organismo. Tutte le reazioni che noi abbiamo durante la somministrazione dello stimolo sono reazioni ad uno stress, sono reazioni ad un veleno. Il nostro organismo percepisce una ripetuta di forza, un 40-20, un 30-10, quindi percepisce come un'aggressione. Solo che noi lo dosiamo, diamo piccole dosi di modo tale che si crei l'adattamento. Cose che già ben conoscete tutti, cose che sapete già, ma è giusto ricordarvi questo. E vi farà molta impressione sapere che in ambiti di allenamento, quindi in ambiti di sportivi che lo fanno, di mestiere, non è a tutti molto chiara questa cosa. C'è ancora molta convinzione del fatto che sia l'allenamento quello che mi fa migliorare le performance, non che sia la combinazione tra stimolo allenante, quindi dose del veleno e adattamento dell'organismo, quello a migliorare le performance. Voi siete dei privilegiati. Ok, allora, come vi ho segnalato, la curva di supercompensazione avviene perché c'è un carico allenante, perché c'è un periodo nel quale il mio organismo decide cosa faccio con questo carico, cosa faccio con questo pazzo qua che mi ha fatto fare queste robe qui. Sarà mica il caso che poi me li faccia fare domani? Quindi l'organismo si adatta, si attrezza e crea la supercompensazione. Se gli stimoli sono giusti, c'è una curva in crescita, quindi quando si alza in alto a destra vuol dire che c'è un adattamento positivo. Se gli stimoli sono sempre uguali, ed è questo l'esempio, non c'è adattamento. Se mi faccio la tirata di collo ogni domenica, non migliorerò mai, quindi manterrò sempre le stesse condizioni. Se faccio un allenamento alla settimana non c'è possibilità di migliorare. È come se mi facessi, mi ingiettassi il veleno una volta all'anno. Prima o poi, se sbaglio la dose, ci lasso le penne. Se gli stimoli sono molto vicini, quindi non c'è la possibilità di recuperare, quello che avviene è questo, quello che noi tutti conosciamo come overtraining, ovvero il sovrallenamento. Questa è la curva desiderabile, quindi una curva che si alza in alto a destra. C'è adattamento. Questo pipone già lo conoscete, già lo conoscete. Però ve lo ricordo. Cosa succede in un micro periodo è l'adattamento. Cosa succede in un medio ciclo è l'adattamento. Cosa succede in un grande ciclo, quindi tutta una stagione, c'è un adattamento stagionale. Ma cosa succede se tutti gli anni ripetiamo gli stessi stimoli? Andremo in queste condizioni. Quindi voi potete vedere questa curva come la somma di allenamenti in un mezzo ciclo di lavoro, un periodo di lavoro, un periodo di carico, oppure potete vederlo come di stagione in stagione. Se tutte le stagioni faccio le stesse cose, non otterrò un adattamento a livello superiore. Otterrò una messe. Questo. Piatto. Piatto. Potrei anche accontentarvi. Non credo che siamo alla stregua di essere convocati per i prossimi giochi olimpici o per i mondiali, vero? Potremmo anche accontentarsi. Ed ecco che il nono, che sarei io, dice Ma se noi invece consideriamo un altro argomento, e non è solo la performance, ma è l'adattamento generale del sistema uomo a quello che la natura ci offre, non sarà mica che è meglio creare nuovi stimoli allenanti per creare un adattamento ad un altro livello e che di conseguenza o come conseguenza questo possa migliorare la nostra performance? Lo ripeto. Io faccio qualcosa per migliorare il mio stato di adattamento alle sollecitazioni della vita. Questo crea secondariamente un adattamento alle performance. Quindi non sto facendo qualcosa di specifico, ma sto facendo qualcosa di apparentemente aspecifico, ma che crea un adattamento positivo per quanto riguarda la performance. Ma non è il mio obiettivo. Ma non è il mio obiettivo. Il mio obiettivo invece è fornirvi un programma che sia più adeguato a quelle che sono le esigenze. Quali sono le nostre esigenze? Entro nel tragicomico. Avevo seguito un filosofo un paio di settimane fa, non so perché sono capitato a seguire un podcast e poi stavo leggendo qualcosa. Sono gli stoici poi che hanno creato questa concezione, questo concetto di vita, no? Cioè in realtà noi siamo in sala d'attesa. Siamo in sala d'attesa, sappiamo dove andiamo a finire. Tutti siamo in sala d'attesa. Che cosa facciamo nella sala d'attesa dipende poi da come ci forniscono la sala d'attesa. Ci sono certe sali d'attesa che tu vorresti finirla subito, no? E ci sono certe sali d'attesa in cui tu ci stai bene, ci stai bene. Ti godi anche l'attendere, la visita del medico. Ok? Quindi in questa sala d'attesa noi dobbiamo fare in modo che questo periodo sia il più bel periodo della nostra vita. Ogni momento in cui siamo ancora in sala d'attesa, quindi non siamo andati di là, dovrebbe essere il miglior momento, quello più bello. A questo concorre il fatto che noi abbiamo bisogno di fornire degli stimoli che ci facciano stare bene qui e ora. E il primo e fondamentale stimolo è quello di assecondare madre natura, non di andare contro madre natura. Con l'odio di tutti voi io vi dico che quello che noi facciamo, quindi prendere la nostra bella bici, non è assecondare madre natura. Questo è utilizzare un mezzo per fregare madre natura. Attenzione! È bellissimo tutto quello che ci sta attorno, ma in realtà non la stiamo assecondando. Stiamo utilizzando un mezzo per fregare madre natura. Quali sono le cose che madre natura ci dice di fare? E ci dice che ci siano programmati per fare una cosa meravigliosa, quella di stare in piedi rispetto a tutte le altre specie. Ma per questo noi dobbiamo pagare un'imposta che è quella che ci tiene eretti. Quindi la lotta continua contro la forza di gravità che ci porterebbe andare giù. E se c'è questo meccanismo meraviglioso, ci deve essere un senso biologico anche a questo. Quindi il nostro adattamento risponde ad un adattamento biologico. E quando io parlo di queste cose e dico il nostro sistema osseo, che è fatto di cellule, ha bisogno di essere stimolato. Quindi ha bisogno di quel qualcosa per cui madre natura ci ha programmati per poter creare quello stimolo di modo tale che le osa non diventino delle spugne fragile, fragile, fragile. E poi un vento ci spezzi. Cose che in bici non possiamo fare. Cose che in bici è impossibile fare. E quindi nella mia mente malata io ho detto attenzione perché qui noi dobbiamo fare questa cosa. E domenica ho accompagnato un gruppo, la squadra di università di Luca, sono nato due volte quest'anno delle corse. Ho detto io voglio che alla fine, dopo la corsa, rispondete a questa domanda. E quale domanda? Quale domanda? Quelli che già mi conoscono. Eh, cosa hai imparato? No, 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 no. Questa volta non vi domanderò cosa hai imparato. Io vi domanderò quanto ti sei divertito. Secondo voi qualcuno mi ha detto quanto sei divertito in una corsa? No, perché non è possibile divertirsi. Cioè ti diverti, cioè dimentichi la fatica che hai fatto se vinci o ti piazzi. Per il resto ricordi soltanto la fatica che fai. Non c'è la componente ludica. Non esiste la componente ludica. Questo genera adattamenti bellissimi, ma non c'è la componente ludica. Questa storia che mi diverto è una frase fatta, importante, ma non mi diverto. E quindi io mi sono detto ma perché non fare in modo che ci possiamo anche giochichiare, fare qualcosa di diverso e creare stimoli che possano creare un adattamento a tutti i livelli. E quando dico tutti i livelli mi piacerebbe farvi vedere, non ho programmato niente così. Cioè i due emisferi cerebrali, c'è un'immagine che abbiamo tutti, i due emisferi cerebrali, sinistro e destro. Che le neuroscienze oggi siano molto più sagge nel dire le cose, molto parsimoniosi nel dire no, che la parte destra è quella creativa, quella sinistra, quella racionale. Ma no, non è proprio così. Però comunque ci sono questi due. E devono integrarsi, interagire tra tutte e due, no? E c'è una cosa che è bellissima per fare l'integrazione. Per esempio, facciamolo dai. Se facciamo così e respiriamo da una sola narice, stiamo stimolando di più una parte. Così stimoliamo l'altra. Ma semplicemente se incrociamo le braccia e incrociamo nel contempo le gambe, fatelo, io lo sto facendo, incrociamo le gambe e stiamo creando collegamenti tra tutti e due i cervelli. Incrociare le braccia, incrociare le gambe contemporaneamente crea uno stimolo per cui c'è un incrocio a livello di emisferi. E poi vado, mi riprendo tutti i miei appunti di neurofisiologia, scusate, non neurologia, e dico, ma cavolo, il sistema motorio è fatto in una maniera molto particolare. Ci sono i riflessi primari che ci aiutano, che ci dicono, sono proprio deutici a quello che dovremmo imparare a fare con la maturazione, quindi camminare, correre, quindi parlare, quindi digerire. Ci sono i riflessi. Però, tutti noi abbiamo imparato delle attività motorie, e quando impariamo delle attività motorie c'è un momento nel quale le parti alte del cervello ci fanno ragionare. Pensate al momento in cui abbiamo imparato a guidare. Quanta fatica facevamo a trattenere tutte le informazioni che ci davano su come si guidava l'auto. Tutte queste cose che bisognava fare, guardare dietro, guardare avanti, controllare qui, controllare là. Vi ricordate? Andate, 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 ricordatevi. Questa confusione. Questo era un flusso di energia che andava lì e ci irrigidiva. Dopodiché, a forza di praticare, di praticare, ci è diventato così automatico che facciamo di tutto mentre guidiamo l'auto e rispondiamo con assoluta efficacia all'evento all'imprevisto. Quindi, mi sono detto, noi dobbiamo fare qualcosa di molto più carino. Quindi, ecco, utilizzare i due grandi assi dell'attività motoria, che sono le capacità coordinative. Quindi, vi faccio vedere una cosa che è carina. Questo tizio qua, che è un pazzo da regare. Sono i woman's show, no? Avete una pazza idea di cosa significa mettere in atto tutte queste abilità motorie? Perché di abilità motorie si tratta? A un certo punto smetterà di suonare e canterà anche. Notate, lui sta tenendo il ritmo, sta muovendo le gare. Sta cantando, sta suonando da una parte, sta facendo la base dietro. Eh, ragazzi, qui siamo al top. Qui siamo al top. Stiamo imparando a fare delle cose che sono bestia. E le capacità condizionali? Le capacità condizionali sono quelle che condizionano le risposte fisiologiche. Posso fare semplicemente dal camminare una capacità condizionale, perché basta che io aumenti il mio ritmo e sto creando uno stimolo superiore e che ha bisogno di una risposta superiore da parte dell'apparato cardiocircolatore. Quindi se prendiamo le nostre famosissime, ripetute in salita, eh, qui stiamo facendo delle capacità condizionali. Perfetto, va l'esercizio. Bene, questo ragazzo mi piace, mi è molto simpatico. Ignorare il proprio mito in gara. Allena il cuore e i muscoli. In particolare, le ripetute in salita aiutano a rafforzare i quadricipiti, i muscoli posteriore della coscia e i polpacci, tutti indispensabili per la corsa. Ora, fatemi dare qualche consiglio per fare le ripetute in una maniera più efficace possibile. Le ripetute... Ma ve lo risparmio, ve lo risparmio, perché un po' di stupida te lo dice anche voi. Torniamo. Nella prima fase di un apprendimento motorio, la sollecitazione da parte del sistema nervoso è tale per cui crea per forza di cose una stimolazione a livello organico. Quando sto imparando una nuova attività motoria, ma anche se è un'attività che è di poco conto per quanto riguarda lo stimolo fisico, il fatto che stia lavorando l'80-90% del nostro cervello si è impegnato, che siccome non sappiamo bene fare l'attività fisica, poi l'attività motoria che stiamo imparando, sono contratti molti più muscoli di quelli che in realtà servono. Non solo sono contratti, se non che, siccome non sono coordinati, i muscoli antagonisti che dovrebbero consentirmi di fare i movimenti con certa fluidità sono ancora tesi e quindi c'è una sollecitazione energetica che è pazzesca. E nel frattempo cosa sta avvenendo? Cosa sta avvenendo in chi ha più di, la faccio politically correct, più di 26-27 anni? Perché a 25 già cominciamo a perdere neuroni. E' così. Quello che succede è che le cellule che rimangono, quindi quelle della glia, quelli che creano dei collegamenti, si danno da fare. Ecco la plasticità del cervello. Ma perché ci sia un adattamento e ci siano queste cellule della glia che creano maggiori quantità di collegamenti tra di loro e sopperiscono alla mancanza naturale, fisiologica dei neuroni che muoiono tutti i giorni, c'è una condizione se ne qua non. Ed è il fatto che lo stimolo deve essere uno stimolo potente, uno stimolo forte. Mi deve costringere ad utilizzare, esprimere le meningi come si dice solitamente. e quando faccio un'attività motoria nuova che non sono abituato a fare, secondo voi questo avviene o non avviene? Sì che avviene. Io sto proponendovi di fare attività di capacità coordinative nuove di modo tale di stimolare una risposta adattativa che coinvolga tutto l'organismo. mi vorrei fermare qui e ascoltarvi. Un'attività coordinativa nuova quindi non l'avevo fatto prima non so come farlo non so come farlo quindi c'è quel momento nel quale esco della mia zona di comfort entro in quello che si chiama la panic zone non so che per scipiliare però tengo duro mi impegno provo di qua provo di là riprovo di qua riprovo di là fin quando il mio cervello capisce cosa deve fare e quindi da fluidità se a questo se a questo noi sommiamo l'attività organica allora quello che abbiamo è una stimolazione completamente nuova una stimolazione completamente nuova il risultato di questo è un adattamento ad un altro livello che mi dà come conseguenza non come obiettivo primario un aumento della performance un aumento della performance per quanto riguarda la capacità di esprimere maggiore quantità di potenza come ve lo dico spingere più watt si spingere più watt questo è quello che sto proponendo Davide ci sei? si certo volevo volevo cominciare volevo interagire perché non voglio fare il monologo non voglio fare il one man show c'è già questo che è molto più bravo di me certo ma allora guardi Omar visto che tu hai appena parlato hai fatto un bel bellissimo capire introduttivo sei arrivato a parlare poi dell'aumento di watt io adesso è arrivata anche una domanda adesso la condividiamo però faccio vedere velocemente un paio di testimonianze che nel frattempo sono giusto per farvi vedere di cosa stiamo parlando perché poi ringraziamo molto qualcuno dei quali credo sia anche in linea questa sera allora condivido il mio schermo quindi dovrò abbandonare il tuo probabilmente schermo le uscite io? no no forse ce la facciamo bravo ok adesso si vede solamente il mio quanto pare ok per esempio Raffaele Longo quando tu prima adesso dicevi proprio di stimoli nuovi mi ha scritto un messaggio bellissimo molto lungo questo è un pezzo dice innanzitutto fare qualcosa di diverso è stimolante ed è ciò che ci vuole per non creare omeostesi psicologica pensare di rimettermi sui rulli d'ottobre a marzo dopo sei inverni consecutivi a guardare un garage pedalando mi faceva già percepire uno stato d'ansia per quanto smart sia noi home trainer per quanto sia pagante il software di uso ora posso dirlo è stata una manna dal cielo uscire all'alba con luce frontale respirare aria fredda il silenzio e la natura che lentamente si risveglia con la cadenza del battito dei tuoi passi e della cadenza del tuo fiato il profumo della brina è stato meraviglioso i luoghi attorno a te che normalmente vivi in altri momenti sembrano essere completamente diversi riesci a percepire dettagli fin prima sconosciuti rumori e colori nuovi è stata una vera revolution per cui insomma questo bellissimo bellissima testimonianza e parlando di Vatt il nostro amico Andrea Andrea Foscato che ho visto essere anche in linea mi ha dato anche lì una bellissima testimonianza tanto me l'ha scritta oggi senza nemmeno che gliela chiedessi dice l'anno scorso mi sono buttato in te e revolution e non ho usato la bicicletta per quattro mesi ho sempre fatto gli allenamenti all'aperto al freddo al buio ma sempre all'aria aperta e conservo il ricordo della più bella preparazione invernale di sempre in più c'è da dire che quando sono risalito in bici e ho fatto praticamente solo la potenza aerobica e poi un po' di potenza anaerobica con la stessa bicicletta sulle stesse strade con lo stesso misuratore di potenza ho alzato l'ftp sui 20 minuti di ben 25 watt dal precedente anno posso aggiungere anche che ho avuto meno fastidi muscolari del solito e più durata nel tempo della condizione quindi insomma questo è per dire ne abbiamo altre le stiamo raccogliendo le faremo anche vedere nei prossimi giorni però era giusto per insomma per capire di cosa stiamo parlando e come dire la tua e che la l'intuizione di Oma la ricerca di Oma ha portato insomma a dei risultati concreti per gli amici pionieri che nello scorso anno ci hanno dato fiducia un po' come ero io all'inizio un po' titubanti un bel gruppo di pionieri che però adesso ci ringraziano insomma per cui siamo molto felici di questo Alberto fa una domanda chiede se il rowing potrebbe essere alternativo allora il rowing è sicuramente alternativo per quanto riguarda le capacità condizionali sicuramente alternativo però ti manca questa cosa qui Alberto manca questa cosa qui ci divertiamo due minuti scratch che è a gravità zero ci sento tanto l'audio però le immagini la rendono le raggialle fantastico quando faceva queste cose qui quindi rowing va bene anche perché a livello fisiologico a livello fisiologico è l'attività che coinvolge la maggior quantità di masse muscolari a livello aerobico quindi sicuramente a livello condizionale è perfetto manca questo manca questo manca la azione naturale di madre terra che dice che tutto scende a 9,82 metri per secondo al quadrato e tutto tende ad andare verso il centro questo ok ma per fare in modo che noi non caschiamo ci sono i nostri muscoli antigravitazionali che devono lavorare permanentemente in più le ossa voi sapete come scendono come sono le ossa e cosa devono fare gli astronauti quando stanno nella stazione spaziale cioè la densità ossea diminuisce aumenta in una maniera pazzesca a livello osteoporiotico perché la gravità serve per fare quella stimolazione delle cellule osse osse se in più aggiungiamo quel microtrauma del passo del saltelo del balzelo quel microtrauma va a creare quella microrottura quindi veleno veleno alle cellule osse che costringeranno consigliano tutto il metabolismo osseo a rigenerarle lo capite che è un veleno giusto un veleno che ci serve capite che man mano che andiamo avanti con l'età affrontiamo tutti il problema della sarcopenia che vi piace o che non vi piaccia tutti abbiamo a che fare con la sarcopenia e se continuo a fare ciò che ho fatto non c'è il raccludamento muscolare perché il sistema nervoso tende alla economia dice perché devo fare più fatica quindi se continuo a fare sempre lo stesso ciclico lavoro in bicicletta non c'è una stimolazione neuromuscolare quando voi vedete nella tabella le zone Z7 e dice neuromuscolare è una balla ragazzi è una mentira è una menzogna non c'è neuromuscolare non c'è neuromuscolare neuromuscolare vuol dire che il sistema neurale è costretto ad un lavoro e questo può avvenire soltanto se io sto facendo qualche cosa che impegna i miei neuroni una nuova attività una nuova qualunque attività sia una nuova attività bene c'è una domanda di francesco e mi sembra corretto rispondere dice al momento ho problemi alle ginocchia a pedalare non mi fanno male però ho qualche problema per il camminare o correre è un impedimento questo per revolution allora camminare rovi francesco camminare puoi specificare il problema del ginocchio intanto lo specifico non so da dove prenderlo il problema al ginocchio il problema al ginocchio è molto generico anche io in questo momento ho un problema al ginocchio ma proprio perché mi mancano gli stimoli non appena mi metto a fare stimolazioni tipo antigravitazionali appena c'è un po' più di stimolo sui due vasti quei dolorini che ci sono permanentemente scompaiono quindi bisogna capire se questo tipo di veleno è quello che serve quindi bisogna essere un po' più specifici francesco comunque andiamo avanti appena poi mi dici qual è nello specifico il problema ecco menischi rotti in entrambe le ginocchia e cartilagine molto fragile ok allora io ho preparato una cosa che non posso spoilerare però ho preparato una cosa proprio specifico per questa cosa un'attività che mi costringe a lavorare tecnicamente però che diminuisce l'impatto i menischi che sono roti potrebbero crearti un problema in sollecitazioni molto ve lo faccio graficamente in questo tipo di sollecitazioni quindi non in questa ma in questa perché in questa dove si fa attrito il cuneo all'interno costringe il menisco in queste sono misurate se non ti metti a saltare da un metro e cadi sono stimolanti sono stimolanti però comunque si voi sapete che poi noi abbiamo un gruppo nel quale man mano si progredisce andiamo avanti a sistemare i piccoli problemi a personalizzare i piccoli problemi Davide ci tiene tanto che quest'anno il gruppo sia su facebook e non sia più su telegram quindi quello vecchio di telegram rimarrà e proprio per questo per dare le piccole correzioni voi sapete che ogni programma non può andare bene in totto per tutti ma quando noi conosciamo il tipo di reazione c'è sempre la possibilità di una correzione c'era qualche altra domanda no per ora no però invitiamo naturalmente se avete delle domande oppure un'esperienza da condividere qualsiasi cosa scrivete pure anzi ecco che ne è arrivata una beppone condividiamo beppone felice da settembre fino a marzo prevarico crossfit pratico immagino crossfit va bene per creare quello che stai parlando come stimolazione neuromuscolare dico di no da settembre a marzo fai crossfit le cose del crossfit le sai già fare le sai già fare rifaccio il punto rifaccio il punto allora io riesco a battere stasera riesco a battere un centinaio di parole al minuto così così ok se domani mi chiedi mi metti e mi dici guarda in un minuto ti do tot euro però se vatti 120 parole al minuto questa attività la conosco la so fare è automatica per me però se mi chiedi quell'aumento costringerà il mio cervello a lavorare in un modo diverso mi stai dando uno stimolo diverso quindi ci passerà un momento nel quale non soltanto non riuscirò a fare le 120 se non che diminuirò le mie performance superata questa fase potrò migliorare la mia performance ok ora cosa succede se oggi oggi mi fai battere alla mia velocità di crociera però mi fai battere su una tastiera spagnola spagnola ci ho provato a farlo io ho imparato la datilografia con la tastiera spagnola quindi ASDN io adesso so battere sulla tastiera italiana quindi se mi dai questo stimolo io mi fermerò e non so saprò dove andare a mettere questo dito o questo dito questo è uno stimolo neuro neuromuscolare è nuova lì mi metterai veramente in difficoltà nel caso A le mie capacità condizionali è quello che fai con crossfit nel caso B sono uno stimolo psicomotorio chiamiamolo psicomotorio e non ci confondiamo è uno stimolo psicomotorio questo mi costingerà a spendere molte più energie sarò molto più rigido in quella fase in cui sono molto più rigido sono molto più legato sto creando un nuovo adattamento va bene questa è una conferma di Francesco dice in effetti fare lui tutto l'inverno è una bella palla e ci vuole qualcosa di diverso e stimolante e siamo perfettamente d'accordo tanto Franci sai che lo facciamo quotidianamente abbiamo un certo tipo di rapporto quindi lo costruiamo lo sistemiamo è chiaro che nel caso di Francesco la dose del veleno dal programma iniziale probabilmente abbassiamo un pochettino la dose andiamo con più cura abbassiamo la dose e voglio capire voglio che voi mi fate capire se sono stato in grado di farvi comprendere la differenza perché sto cercando qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo se l'ho fatto per un periodo di tempo grazie al cielo il nostro sistema funziona per l'economia se tutti gli economisti al mondo prendessero esempi di come funziona il sistema umano nessuno avrebbe problemi di soldi e non sto parlando del comunismo universale perché il nostro sistema è predisposto per l'economia ed è predisposto per l'accumulo non per la spesa quando è predisposto per l'uscita vuol dire che c'è una un qualcosa che non va bene organicamente metabolicamente probabilmente è un problema ormonale mi spiego quindi fatemi capire se è comprensibile quello che vi sto dicendo se no ve lo spiego in un altro modo per esempio perché tutti giocano e si divertono quasi immediatamente a giocare al benedetto padel perché un bambino appena ha 5-6 anni può giocare palacanestro e si diverte perché prende la pala in mano e la lancia e non può fare la stessa roba con la palavolo nel caso della palacanestro io tengo in mano il palone tengo in mano il palone e lo passo nel caso della palavolo non posso trattenerlo devo respingerlo ed è antinaturale bellissimo sport è il mio sport bellissimo ma è tutto è tutto da matto perché devi fare l'esatto contrario ok quindi questo crea un adattamento non posso immediatamente giocare palavolo posso immediatamente giocare a palacanestro non sarò un campione ma posso giocare a palacanestro posso prendere la palla e passarla ok riuscire a giocare divertirmi con la palavolo ci vuole un bel periodo nel quale imparo la tecnica per poter gestire il palone per fare in modo che sia io giocare col palone e non il contrario quindi il palone che gioca con me Revolution vi propone di fare attività che sono nuove che vanno messe in relazione ad alcune cose che non erano organizzate così ma già il semplice fatto che voi scendete della bici il mezzo abituale che è ciclico che di coordinazione non c'è nulla non c'è nulla assolutamente nulla la coordinazione è la capacità che abbiamo di rispondere agli stimoli che vengono al di fuori del nostro controllo ma quello siccome lo facciamo da tanto tempo non è più nemmeno uno stimolo invece se vi dico scendiamo facciamo le ripetute in salita e facciamolo correndo in questo modo e già inizialmente mi devo ricordare com'è che si faceva correre e mentre mi sto ricordando com'è che si faceva correre e sto facendo sollecitazioni quindi mi ricordo come si faceva correre più la sollecitazione bingo ho uno stimolo nuovo ho uno stimolo nuovo ok ed è quello che sto cercando ho uno stimolo nuovo se poi andiamo avanti a fare ciò che è programmato quest'anno per revolution 2.0 è già un po' più complesso ancora se vi dico utilizziamo i bastoni e facciamo l'attività guardate facciamo l'attività del nord del walking questa cosa ragazzi è banale vero è banale sto alzando il braccio e sto abbassando l'altro quindi si muove il contro laterale nel senso opposto questo comporta un bilanciamento questo comporta un bilanciamento se a questo sto aggiungendo che devo metterlo incrociato gamba e braccio allora è uno stimolo nuovo se non lo avete fatto è uno stimolo nuovo quindi questo comporta una sollecitazione che va a favorire un nuovo adattamento Davide leggi tu? sei senza audio Davide? ah scusate ecco no dicevo ringraziavo Luca Di Zenzo che conferma tutto questo soprattutto il fatto di come si sia divertito e ha trovato i benefici con il nordic walking che è uno degli stimoli inseriti all'interno di Revolution c'è qualche domanda ancora Omar qualche commento se dici io lo faccio girare così allora Alberto fa riferimento al discorso sul gioco dice giocare è la parola magica per fare in modo che non sia solo fatica e sofferenza quindi è una conferma è bellissimo Alessandro Tavoli ci vorrei partecipare fino a fine dicembre a delle gare del ciclocross questo programma di allenamento è compatibile? assolutamente sì anzi anzi ok ma l'intervento di prima chi l'aveva fatto? quello di prima? sì quello del gioco Roberto Alberto voi sapete che l'ho già condiviso con voi non è più una teoria perché ormai è assodata i lavori di Pankas riguardo a come è organizzato il nostro sistema nervoso con la predisposizione alla interazione con il mondo ed è una cosa che è condivisibile con tutti i mammiferi vabbè abbiamo un programma che dice che siamo disposti al gioco da lì poi costruiamo però geneticamente e neuralmente c'è una conformazione che ci spinge a giocare perché è attraverso il gioco che abbiamo imparato le regole della vita è attraverso il gioco che abbiamo imparato ad interagire con gli altri il gioco è fondamentale e vi dicevo giocare a padel se tutti giochiamo a padel la prima volta vuol dire che non è tanto complesso però la componente ludica fa sì che si crea una motivazione e se a questo aggiungete la diminuzione del carico fisico rispetto al tennis dove mi devo spostare di più è bellissimo non è possibile che un gioco così che quando arriva ad una nazione poi diventa così perché c'è qualcosa di bello che mi consente di giocare immediatamente e ci do dentro e vado avanti e ci do dentro e vado avanti ok il gioco è bellissimo l'altra? era? scusami ok sì allora Mario dice ciao arrivo da inverni passati in mansarda ed eseguire esercizi sul mio trainer i soliti che sicuramente non stimolavano più il mio sistema neuromuscolare quindi è una conferma poi ci dice oh ma per me sei stato chiaro ed è proprio questo che sto cercando l'amico Alberto caro amico Alberto Albi come stai Albi? magari con lui farai una catturata magari personalmente comunque lui dice la mia domanda esce un po' dall'argomento in seguito all'incidente che ho avuto in primavera sto recuperando abbastanza bene i movimenti mi rimane un po' di deficit a livello neurologico ci sono stimoli che possono accelerare tali collegamenti e quindi il recupero? assolutamente sì ovviamente come aveva detto prima Francesco lo facciamo insieme Alberto però è necessario che tu lo faccia dal racconto che mi hai fatto di quello che è rimasto come conseguenza è assolutamente necessario che tu lo faccia ovviamente va personalizzato Alberto ok Alberto un abbraccio intanto Giulio Chiena l'anno scorso ho iniziato questo fantastico programma che mi ha regalato grandi soddisfazioni non solo in bici ma mi ha fatto scoprire una nuova bellissima attività il Nordic Walking mi ha preso veramente tanto da praticare attualmente due o tre volte a settimana in foresta ormai per me è come una droga bene che bella droga poi si riuscirà a farlo fuori oh che fantastico ti immagino Giulio ti immagini poi immersi nella natura voi sapete che bastano bastano dieci minuti immersi nel verde che cambia completamente il nostro assetto ormonale semplicemente stando lì immaginati cosa avviene quando stai facendo un'attività è fantastico Dario ci chiede calcetto può andare? certo che può andare certo che può andare sai che quando ho fatto la una delle due parti non era la mia tesi di laurea ma era il lavoro implementato per quanto riguarda l'applicazione della l'applicazione degli stimoli allenanti ok e la relazione la correlazione di questi stimoli allenanti in relazione agli infortuni sul lavoro ad un certo momento le assicurazioni americane hanno smesso di pagare chi si infortunava perché faceva sport lo sapete quella frase che lo sport è salute e poi succedeva che chi si infortunava erano coloro che facevano attività sportiva calcio calcetto palacanestro e questo e allora in pochi sanno che il lavoro di Cooper sai il test di Cooper 12 minuti è stato commissionato perché devi trovare un'attività che faccia stare bene gli impiegati gli operai quelli che lavorano però che non aumenti le assenze per infortuni quindi Dario mi immagino che tu sei un bravo giocatore che giochi bene ti vengo a vedere una volta dai se giochi bene va benissimo può andare può andare può andare bene Alberto ci dice in inverno quando scendo dalla bici e corro e farto le clandature sono le uscite più divertenti in più il freddo e quel poco di sole sul corpo si sente più che in bici quindi è verissimo è verissimo Alberto avevi già fatto Revolution 1? perché su queste cose mi sono scervellato un po' ho fatto delle cose carinissime perché c'era da fare l'outgrade su questi su questi stimoli perché se vi riproponiamo la stessa roba dell'anno scorso cioè non saremo credibile quindi c'è una evoluzione e c'è una serie di essercitazioni nuove che veramente ti costringono a stare lì a pensare come mettere il piede come mettere le mani e le braccia bello ok l'ha fatto da autodidatta bene ok bene Omar altre relazioni? no puoi andare vai pure avanti se vuoi allora io volevo saltare e e fare l'appunto su ciò che noi possiamo permetterci cosa che non si possono permettere i grandi voi vi avete sentito parlare qualche trilione di volte sulla scissione chiara e netta che faccio tra lo sport di base che nel caso di giovani io chiamo lo sport pedagogico e lo sport spettacolo noi amatori siamo un ibrido una via di mezzo siamo lì siamo lì a metà io considero se mi chiedete la mia opinione la mia opinione è che noi dovremmo prendere la parte di mantenimento della salute ma la parte valoriale che ci lascia il nostro sport quindi una buona porzione di sport pedagogico allora i grandi quelli là che sono pagati per farlo non si possono più permettere la periodizzazione classica perché lo spettacolo chiama lo spettacolo e c'è bisogno che noi facciamo spettacolo e questo spettacolo dobbiamo portarlo in tutto il mondo quindi una volta ci si fermava e poi si riprendeva la stagione con la stagione europea quindi con la stagione dell'emisfero nord adesso non è più così adesso non è più così quindi c'è un modo completamente diverso di programmare la stagione noi abbiamo la fortuna di poter vivere in relazione alla natura è vero che non ci sono più le stagioni come si dice no? è vero ma in realtà ci sono cambi ci sono piccoli cambiamenti di temperatura che il nostro organismo non percepisce il nostro organismo continua ad essere predisposto preparato per avere l'andamento delle quattro stagioni e non è soltanto una questione che sento meno freddo o più no è tutto predisposto per seguire le stagioni quindi nel seguimento delle stagioni io dico che c'è un periodo preparatorio come si prepara la terra perché la neve l'acqua che c'è d'inverno sono nutrienti per la terra che nessuno ha nessuno risalti in mente di andare a seminare a meno che non ci sia qualcosa di particolare a seminare d'inverno per passare ad un periodo transitorio che è il periodo dell'autunno in cui mi sto preparando per passare ad un periodo preagonistico quindi quando c'è l'energia della primavera del cambiamento dell'uscire dalla chiusura delle temperature che ci tengono al caldo all'interno delle nostre case per andare a esplodere e a godere di tutta la natura d'estate quindi queste quattro stagioni che sono ancora vigenti anche se noi diciamo che non ci sono più sono una predisposizione biologica e hanno a che vedere con i ritmi biologici non sono un capriccio non sono un capriccio è necessario che noi viviamo questi momenti è necessario che in un certo momento poi siccome c'è buio noi riposiamo di più è necessario ragazzi cioè noi dobbiamo rispettarlo e noi possiamo permetterci di fare la periodizzazione classica perché la periodizzazione classica seguiva un andamento stagionale ovviamente per chi fa sci di fondo la cosa è inversa ma funziona allo stesso modo noi possiamo godere di un lavoro in armonia e armonia si traduce in beneficio per la salute beneficio per la salute lo dico un'altra volta il miglioramento della performance è una conseguenza secondaria in P&L si parla del guadagno secondario ovvero che quello che io faccio anche se sembra negativo mi da un guadagno secondario l'esempio più classico più stupido è quello del fumatore nessun fumatore non sa che il fumo fa male ma il guadagno secondario del fumo qual è? ci sono tanti ci sono tanti ci sono persone che sarebbero ansiose a non finire perché quando fumano respirano e voi lo sapete perché voi lo conoscete questo la parte della espulsione dell'aria quindi la espirazione è molto più lunga nel fumatore e cosa comporta la espirazione più lunga? ho fatto una domanda peccato che non mi potete rispondere lo sapete questo comporta un riequilibrio del sistema parasimpatico se voi controllate il battito cardiaco state libero controllate e fate inspiro espiro più lunga è la espirazione più i battiti si abbassano perché? semplicemente perché la espirazione lunga è corredata correlata scusate al sistema parasimpatico noi abbiamo bisogno di comprendere che se mi buto a fare soltanto quello che mi serve per migliore la performance sto limitando le mie capacità di adattamento generale adattamento a cosa? adattamento all'ambiente alle sollecitazioni dell'ambiente allo stare in relazione ma io posso fare revolution posso imparare a fare delle cose nuove posso mettere in relazione i miei arti con l'arto superiore mentre faccio e sommo un po' di ripetute e poi alla fine sembro una stupidata ma io sono così in quel momento mi sto stimolando e sto migliorando la mia capacità di coordinamento delle nuove cellule della glia che stanno creando nuovi contatti e quindi stanno tenendo lontane tutte quelle cose che avvengono normalmente nel nostro sistema nervoso con l'avanzare dell'età e secondariamente quando risalgo in bici sento che la mia gamba spinge di più e guardo il potenziometro e dico cavolo questi watt facevo più fatica prima a spingere questi watt bello questo che ne dite bene paracelsio questo è un concetto che riprendo che mi è importante riprendere il concetto di ormesi perché abbiamo parlato che il veleno è la dose che fa il veleno ma quanto veleno serve per far sì che questa dose di veleno provochi l'adattamento chi segue chi fa omeopatia lo conosce molto bene questo meccanismo perché la diluizione omeopatica fa la differenza più bassa è la diluizione più ho bisogno che questo veleno sia ripetuto nel tempo se prendo arnica 5 CH e devo prenderla ogni ogni ora se prendo una dose di arnica 12 CH 200 CH scusate 200 CH e basta una dose giornaliera l'allenamento è questo è comprendere qual è l'ormesi ma io in quanto preparatore non conosco l'ormesi e questa è l'altra bala che vanno in giro raccontando tutti i giovanotti mi diceva per fare Revolution 2 ho chiesto la collaborazione di Daniele Bazzana perché come modello era molto più utile che me lo facessi vedere io e parlavamo di un po' di questo i preparatori sono usciti come dai funghi dappertutto ci sono preparatori però hanno una parte della preparazione se faccio questo comporta questo però non hanno una visione generale tanto è vero che preparano senza avere per esempio lo sapete che ormai ho perso la capacità di essere politico non sono una pipa di quello che è l'evoluzione di un giovane e somministrano carichi di lavoro a giovani 14 anni quando questi stanno cercando di utilizzare il loro testosterone per crescere e li massacrano quindi ti dicono è il programma che ti fa andare forte no no ma io che programma no che programma cioè tu hai la tua ormesi io devo comprendere qual è la tua ormesi ed ecco che la flessibilità di revolution ti consente di andare a scoprire qual è il tuo livello di ormesi ormesi vuol dire quella giusta quantità quella giusta intensità di uno stimolo che mi consente di migliorare perché se è un po' di più non miglioro anzi peggioro se non mi fa né freddo né caldo non mi cambia assolutamente nulla ok quindi noi sappiamo che ci sono cose che ormai ci sono pericolosissime sono pericolosissime il dato che vi ho dato prima non sanno non sanno nemmeno che hanno a che vedere hanno a che fare con giovani che per una evoluzione involuzione per quello che mangiano per quello che respirano per quello che c'è hanno meno testosterone di quello che avevo io alla loro età molto meno ragazzi molto meno così come io avevo la metà di quello che aveva mio bisnonno probabilmente ok e quindi devi andare perché poi prendiamo il modello quello che tiene tutto se come lui ha fatto questo facciamo tutti così mi auguro che leggendo quello che avete letto non vi salti in mente di andare a fare monossido di carbone come fanno i grandi perché è un dato di fatto che se io ho questo gas che è nocivo alla fine vado a stimolare è nato come un'intuizione però si è verificato se io controllo l'ematocrito di una persona che vive in città del Messico no città del Messico in altura a Shanghai e che pedala a Shanghai respirando quella roba lì cioè alla fine aumenta leggermente l'ematocrito ma perché perché è ormetico è da nostro però se lo superi leggermente ti lasci le penne quindi noi dobbiamo cercare questo livello di ormesi per avere questo livello di ormesi che è salute che è salute gli stimoli devono essere vari ogni cosa che tende alla specializzazione non è salutare non è salutare altrimenti invece di farci le scarpine per camminare quando noi siamo ci mettono la scarpa con l'attacco di modo che io possa adaccarlo al pedale mi spiego ragazzi e gli stimoli ormetici sono sempre a tutto tondo sono globali non posso stare senza leggere senza leggere perché se non leggo se non leggo non c'è ormesi per le mie cellule che devono continuare ad elaborare concetti se leggo soltanto dal computer ho dei problemi quindi va bene che io lega qui ma devo leggere anche la carta va bene che dorma ma va bene che sia sveglio va bene che saltei e va bene che vada in bici se metto tutto insieme sto ottenendo per quanto riguarda la salute stimoli ormetici ricordatevi quando andiamo nella specializzazione andiamo alla ricerca di quella dopamina della specializzazione perché mi sento bene però non sto contemplando il programma di madre natura e in definitiva non sto favorendo il mio livello di salute la mia proposta è favoriamo i nostri livelli di salute con stimolazioni con stimolazioni importanti importanti che mi costringono che mi costringono ad un adattamento e poi tiro fuori la borsa e mi sono ritrovato che nella borsa avevo anche maggiori performance bene di questo cosa ve ne ho già parlato ok stadi della osteoporosi questo è normale lì andiamo ragazzi che vi piaccia o non vi piaccia lì andiamo l'unica possibilità che abbiamo è quella di rallentare questo processo attraverso la stimolazione i salteli i balseli il contatto questo stimola la osteosintesi osteosintesi e osteogenesi è importante che noi scendiamo dalla bici e sentiamo il contatto e che abbiamo la possibilità di trasmettere questo contatto e tenere le ossa sane se a questo dato qui aggiungiamo che per quanto ci riguarda non so quanti amici sono del sud ma la grande maggioranza che stanno al nord già ci manca la sposizione solare per cui la vitamina D che una gran parte della vitamina D va a funzionare nel metabolismo osseo è carente se restiamo sommiamo questa carenza sommiamo la mancanza di stimolazione meccanica per cui favorire un'osteogenesi e ragazzi stiamo andando da soli nella tana del lupo proprio da soli va bene io con questo chiuderei molto bene benissimo allora io chiuderei con visto che abbiamo parlato anche di risultati leggerei l'ultima testimonianza del nostro amico Andrea Volpine o altri che stiamo raccogliendo e ci dice comunque il mio feedback su Revolution è molto positivo e te lo posso sintetizzare semplicemente dicendo che questa stagione ho riscontrato più potenza soprattutto negli sprint che non erano al mio forte ma anche nelle gare cronometro allo stesso tempo maggiore sensazione di energia anche nelle attività quotidiane insomma direi che questo racchiude molto del senso del messaggio che hai voluto dare in questa serata Omar c'è una domanda di Francesco rispondiamo perché mi sembra interessante tempo fa ci avevi parlato di ciclo circadiano ciclo ultradiano quanto è importante modellare il lavoro di Revolution con questi cicli? e questi evoluti poi alla fine ti diranno fuori delle domande che non è che puoi rispondere così Franci questa la potremmo tenere buona per un'altra diretta questa domanda sì sì mi devo avvalere della facoltà di non rispondere perché è troppo elevata questa domanda non vorrei risponderti così perché mi sai il tuo stimolo Francesco è ormetico mi hai creato un po' di va bene allora ci aspettiamo un contenuto su questo magari facciamo una diretta magari del venerdì e ne parliamo la salvi tu questa domanda così io posso salvare il video rimane salvato non ti preoccupare ok comunque me l'ha noto benissimo allora io aggiungo tutto quello che ha detto Omar che è stato veramente molto bello interessante come sempre aggiungo il fatto che Revolution adesso vi daremo delle informazioni la settimana prossima faremo la presentazione dell'apertura ufficiale della nuova stagione è un programma strutturato nel senso che al di là dei lavori degli stimoli che comunque seguono una progressione e una varietà nelle settimane in 12 settimane a questi stimoli è associato anche Omar un programma sulla bici quindi un programma che è no è che gli stimoli sono il carico di lavoro poi c'è anche il programma in bici ok ma attenzione attenzione cioè non è che facciamo i saltelli così ci stimoliamo no no che sia chiaro ragazzi è attraverso questa stimolazione che vi sto già preparando la bici la facciamo perché manteniamo l'allenamento per fortuna non è come nel nuoto che se io non nuoto perdo l'acquaticità mi ricordo sempre di andare in bici so come si fa andare in bici lo facciamo lo facciamo è coordinato ma attenzione c'è da lavorare c'è da lavorare c'è da lavorare giocando c'è da lavorare con il corpo c'è da lavorare all'aperto c'è da fare ma c'è da lavorare perfetto per cui questo è un programma di 12 settimane dopodiché al termine di 12 settimane comunque rimane il programma di allenamento sempre sulla base di Train Evolution 1, 2, 3 saggiamente mescolati messi assieme da Omar e il supporto il supporto per tutto il tempo della preparazione c'è un gruppo Telegram pensavamo di ritornare anche nel gruppo Facebook perché ci piacerebbe riavvivare questo bel gruppo che ci ha dato tante belle soddisfazioni e tante condivisioni in passato per cui ci sarà questo canale quindi la condivisione l'assistenza la risposta alle domande eventuale personalizzazione come nel caso di qualche problematica ad adattarsi al nuovo stimolo essendo appunto dei nuovi stimoli per definizione abbiamo bisogno di adattarci quindi magari per qualcuno può essere un po' più difficile se c'è bisogno di una personalizzazione facciamo anche questo grazie appunto ad Omar e alla sua disponibilità flessibilità ed esperienza bene quindi a questo punto io direi che ci aggiorniamo nei prossimi giorni comunque daremo ancora informazioni dalla settimana prossima si parte per cui ragazzi ragionateci pensateci sopra se state pensando di rispolverare i rulli lasciateli lì un attimino che non c'è fretta abbiamo qualcosa di molto più bello stimolante divertente e anche redditizio da fare insieme questa quest'inverno va bene Omar grazie a tutti buon riposo e alla prossima un abbraccio ciao a tutti ciao buonanotte ciao a tutti